Ciao a tutti, siamo con Daniela e Matteo, concessionaria Steelmoto Honda di Sondrio, perché mi faranno provare la nuova Africona, eccola qui, Test Drive. Che cosa ha di particolare rispetto a quella dell'anno scorso? Allora, l'evoluzione che c'è stata sull'Africa Adventure è stata praticamente, secondo me, è una roba che ci sta, ci voleva e ci sta, e tanto è stata aspettata. Hanno montato la ruota a 19 pollici anteriori. Che bestialità la ruota da 19 sull'Africa! Sì, finalmente sì. Sull'Africa Adventure non avere questo tipo di equipaggiamento come pneumatico, come ruota, era non normale, era come avere un SUV grosso con le ruote da 10. Un tassello mancante. Funzionava un poco. Adesso è completa e funziona, e me lo dirai poi tu quando la guidi. Io l'ho provata e quando ho fatto 100 metri ho capito che era la strada giusta. Resta il 21 pollici sull'L3, quella piccola. La chiamo piccola perché ha il servatorio più piccolo. Resta per chi vuole poi avventurarsi anche un po' più nell'offro. Quindi i nostalgici del 21 ce l'avranno sempre sulla versione L3, ma finalmente sull'Advento Sport, che è quella che si nasce per avere un telepresso utilizzato anche con un medio lungo raggio, quindi anche per un po' più di chilometri, dato appunto anche sull'osservatorio grosso che ti permette di fare 400 e passa chilometri con un pieno, avere un 19 pollici anteriore è la scigliegina sulla torta. Vedrai come, non ti svelo nulla perché me lo direi tu, è diventata molto più stabile, ferma e meno ballerina, passami il termine, e come ti aiuterà a girare le curve. È stata cambiata non sulla ruota, ma è stata rivista un pochino anche la parte delle misure, perché è più bassa, è più bassa, è più grande, soprattutto per quelli che... Io non sono uno stangone. Sì, vedi che con sella bassa è davvero molto bassa, ma è anche bassa la luce a terra della moto. Quindi tutto ciò vuol dire mettere tutti i pesi in basso, metterci una ruota più piccola, avere meno sovrasterso nelle curve, quindi riuscire a chiudere la curva prima, diciamo che si è avvicinata di più anche all'utente che proprio non ha tutta questa esperienza, grazie a questo modello e a queste piccole cose che sono state fatte, chiunque oggi, di qualsiasi altezza ormai, può portare una moto di questo tipo. Rivista anche la parte elettronica, noterai subito che quando ineserai la marcia in drive avrai una prima risposta al gas, differente da quella dell'anno scorso, cioè non avrà quello on-off o lo strappo che potrebbe essere pericoloso, soprattutto in partenza, se ti dimenticavi di mettere il fall perché dava il colpo, avrai un'erogazione molto molto più fluida e più dolce che ti permetterà di partire con molta più tranquillità, quindi è più facile, te la godrai di più, ma voglio che tu sia quello che mi dica le cose, non io. Stavolta parli tu. Andiamo dai! E cominciamo l'avventura con l'Africona, con la ruota da 19. Oggi temperatura fantastica sui 20 gradi, ma non ho voglia di andare troppo in alto. Andremo in mezzo alle vigne, puntatina magari a teglio, insomma il video ne varrà la pena anche solo per questo. Quindi attualmente sono in folle, neutral, in attesa che scatti il verde. Verde, inserisco la marcia e vado senza frizione, senza cambio al piede! E' divertente, io adesso giro qui a destra. Ho sempre la tendenza a cercare il pedale del cambio. Adesso devo un po' riabituarmi a non avere a che fare con frizione e pedale del cambio. Usciamo da Sondrio e vi porto nel mio solito percorso, urca come curva bene con il 19. Forse in video non si capisce, ma quella era una curva a gomitissimo. Sempre sulle vigne di Valtellina, sullo sfondo la città di Sondrio. Pochissime centinaia di metri per poter dire che il feeling iniziale con questo bestione è notevole. Mi sembra come se la conoscessi da tanto tempo e ne conoscessi le caratteristiche. Sarà la posizione in sella, sarà la ruota, non lo so, ma il feeling iniziale è impressionante. Vi racconterò semplicemente le mie impressioni, le mie sensazioni di persona comune, di semplice appassionato che nella vita fa tutt'altro che questo lavoro. Adesso sono in drive, quindi una mappa un po' più tranquilla. E nonostante ciò il gas c'è, il gas c'è. Adesso metto in sport, sport 3 e diventa cattiva. Urco! Rugisce! Ovviamente in sport tira molto di più le marce. Qui rallentiamo. Vediamo questo dosso? Quasi non l'ho sentito. Sospensioni direi ottime. In sport, che tende a tirare più le marce, magari si tenderà a far più uso delle palette. Rispetto all'Africa che ho provato l'anno scorso, la maneggevolezza è decisamente maggiore. E stiamo parlando, signori, dell'adventure. Non certo della piccolina. Proviamo altra curva a gomito a destra. E, signori, io non è che son bravo a fare queste manovre, eh. Scalata al punto giusto! Oh, che bello questo posto! Oggi io non ho una meta ben precisa. Non raggiungerò una destinazione ben precisa. Il mio scopo è solamente quello di stare in giro in bei posti e godermi la moto! La cosa che più mi impressiona è che le cambiate avvengono in maniera perfetta. Cioè, la moto cambia quando vorrei io che cambiasse. Come se fossi io a decidere. Un appunto. Non mi entusiasma in maniera esagerata la frenata. La frenata è morbida. La vorrei più mordente, più... Più aggressiva. Ovviamente non ho il telelever, per cui l'effetto è questo. Dietro non c'è nessuno, adesso freno. E va più giù. Eh sì, l'erogazione in drive è più dolce. E io adesso provo a salire qui a destra. E andiamo a Triangia. Vi porto al lago di Triangia. Vediamo come si comporta sui tornanti. Signori, ma questa moto è uno spettacolo. In drive, ovviamente, le cambiate sono più ravvicinate. Rispetto al GS, si sente che c'è meno cavalleria. Però, signori, ma di che cosa stiamo parlando? È un mostro sta moto. Mica dobbiamo farle gare. Ma cos'è? Ma cos'è? Sono in terza. Seconda. Ma io ho l'impressione come se sta moto io ce l'avessi da una vita. Eccoci arrivati a Triangia. Adesso dobbiamo cercare le indicazioni per il laghetto. Ma intanto io metto nuovamente in sport. Perché io sta moto me la voglio godere. Io quasi qui ho paura che impegni. Urco! Fermati! Ecco qua, lago di Triangia. Dicevo, dovevo fare attenzione perché qui mi arrestano. Andiamo piano. Dove si va qui? In assenza di indicazioni vado dritto. Lago di Triangia. Eccolo qui a sinistra. Il lago di Triangia è un laghetto molto carino. Piccolo. Molto carino per le famiglie che vogliono fare, per esempio, un bel picnic. La strada qui non è affatto buona, è piena di buche. Ma io quasi non le sento. Rugisce! Se non sbaglio, si va qui a destra. Lago di Triangia a destra. Eccoci qua. Sì, un belino di sterrato, ma più di 20 metri. Qui dobbiamo fare attenzione che c'è un po' di fango. Ma manco 20 metri. Peccato. Niente. Non mi piace. Con tutto questo cantiere. Peccato. Proseguiamo. Chissà dove si va a finire di là. E proseguiamo. Andando a basse velocità si sente ogni tanto un clang della cambiata. Ma bisogna andare veramente a velocità basse. Veciccio! Questa è una zona nuova anche per me. Non sono mai salito qui su. Ogni tanto cerco il pedale per scalare. Non me l'aspettavo questa cambiata. Qui sono 14 gradi. E tutto va bene. Pradella di sopra, Sant'Anna. Questo posto proprio non lo conoscevo. Qui siamo a Vesolo. 1040 metri. Io adesso smanetto un po' con il TFT. Devo mettere il freno a mano. Il freno a mano è proprio un freno a mano. Si fa così e la moto è ferma in parcheggio. Beh, io direi di cominciare la panoramica della moto con questo sguardo veramente cattivo. Beh, esteticamente io credo che parlando di moto adventure sia proprio una delle più belle. Temo proprio che oramai non ci siano più confronti col GS perché il nuovo GS esteticamente non mi fa proprio impazzire. Non che sia una brutta moto, ma obiettivamente potevano far di meglio. Ma anche il cavalletto centrale in questo esemplare non mi fanno impazzire queste saldature. Queste saldature sono un po' pacchiane. Questa versione equipaggiata con questo scarico SC Project. D'altro canto, non so se in video si sentiva. La moto rugisce. Dual clutch transmission. Il colore del motore è veramente bello. Questo bronzo metallizzato fa veramente il suo bell'effetto. Il pedale del freno è fisso. Allora, si può rimuovere queste estremità. Immagino che ci sia la possibilità, o voglio sperare che ci sia la possibilità, di mettere un pedale che magari si possa rialzare. Perché facendo fuoristrada è un po' importante. I colori sono tipici avventurieri. Rosso e blu. Questo blu, questa tonalità di blu, mi piace molto. Allora, se non si può rimuovere. Grazie a tutti.